Quasi 8 milioni i lavoratori iscritti ai fondi pensione, con una crescita lo scorso anno del 4,9%. Un anno difficile, il 2018, dice la Covip, la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione per la crisi dei mercati finanziari che ha colpito i fondi pensioni negoziali aperti, che hanno perso rispettivamente il 2,5 e il 4,5%, mentre per i piani individuali pensionistici la flessione è stata del 6,5%. Solo le gestioni separate hanno avuto un risultato positivo, più 1,7%. Tutti i fondi pensione per la prima volta nel 2018 sono al di sotto della rivalutazione del TFR. I lavoratori che hanno scelto quest'ultima strada, netto delle tasse, hanno visto una crescita dell'1,9%. Il confronto sul lungo periodo tra il 2009 e il 2018 vede però ancora i fondi pensione decisamente più convenienti tra il 2,7 e il 4% rispetto al trattamento di fine rapporto al 2%.